L'elogio del Gregario Serafino di Alfonso Gatto è l'ultimo pezzo giornalistico che andiamo a leggere. Avete visto che abbiamo fatto un percorso sul giornalismo e abbiamo anche letto degli articoli di giornale, delle interviste, eccetera. Abbiamo visto dell'importanza dello sport, ci ha parlato Nicola Bagnano, in quell'articolo che abbiamo letto la volta scorsa. Oggi parliamo di uno sport particolare, uno sport faticoso, affascinante però per le folle dei tifosi che affollano le strade, ad esempio del Giro d'Italia a maggio, che è il ciclismo. Proprio perché è uno sport faticoso, ahimè, è uno di quelli più soggetti al doping, diciamo così, alla manipolazione. Alla manipolazione, diciamo, tramite l'utilizzo di anabolizzanti o di altre sostanze come l'epo, insomma, eritropoietina. Non so se sapete della vicenda di Pantani o di tantissimi altri grandi ciclisti come Lance Armstrong, che poi si è scoperto sono dopati. Come sempre, come spesso avviene negli sport, ci sono le grandi star. Pensate ai grandi calciatori, ad esempio gli attaccanti, no? In una partita, voglio dire, nelle competizioni calcistiche, gli attaccanti. Pensate a Cristiano Ronaldo, che abbiamo già detto anche ieri, è davvero una star, con tanto, certe volte, di vie, statue, eccetera, dedicate a lui. Mentre poi ci sono, tra virgolette, quelli che, come dire, sono un pochettino più, meno conosciuti. Non so se conoscete la canzone di Ligabue, Una vita da mediano, dedicata a Oriali. Una vita da mediano. Ecco, sì. Dicevamo, in quella canzone lui ci fa capire che certe volte ci sono degli sportivi che rimangono nell'ombra. E che, pure come capita in quella canzone, lui dice a Oriali, poi magari a loro capita di vincere i mondiali. Però, non perché hanno un genio, un estro particolare, ma perché si danno a fare tanto, no? Si possono fare tantissimi altri esempi, anche nel calcio, non so, Gattuso per il Milano, Scirea per la Juventus. La stessa cosa avviene nel ciclismo. Ci sono le grandi star, sono quelle che vincono, ad esempio, le grandi corsi a tappe. E poi ci sono i gregari, che sono però essenziali, perché quei grandi ciclisti possano raggiungere i loro obiettivi. Se non hanno, se non c'è questo gioco di squadra, anche loro non sarebbero in grado di vincere le tappe e di vincere queste grandi corse a tappe, appunto. Ebbene, questo pezzo giornalistico è stato scritto da un poeta, che è Alfonso Gatto. È uno dei poeti più importanti del Novecento in Italia. Nato nel 1909 e morto nel 1976. E quindi, come vedete, ne abbiamo già parlato più e più volte, spesso... Anche gli scrittori si dedicano al mestiere di giornalista, che è un mestiere affine. Il mestiere di giornalista è un mestiere, quindi, che è un po' a cavallo tra, ad esempio, anche abbiamo visto la letteratura, e spesso scrivono, quindi anche dei libri, o la politica. Spesso molti giornalisti poi si dedicano anche alla politica. Questo celebre pezzo fu scritto dal poeta Alfonso Gatto, che alla fine degli anni Quaranta seguì come inviato per i giornali il Giro d'Italia. Non è una cronaca banale della corsa, ma un'intelligente interpretazione del clima di quell'evento sportivo. L'eroe di oggi si chiama Serafino. Apriamo il giornale. In questo caso si tratta dell'Unità, il giornale anche del Partito Comunista, per il quale scriveva Alfonso Gatto. E leggiamo un articolo del 1947. L'eroe di oggi si chiama Serafino. Sembra il nome di un asinello. Eppure ad averlo, 26 anni fa, Apistoia fu un uomo. È il nome di un uomo, non è il nome di un asinello. Biagioni Gregario della Benotto. Una squadra ciclistica, diciamo. Con Serafino si divenne amici sulla Scoffera, nella terza tappa che ci portò a Genova. Ah sì, l'inviato. Abbiamo già detto del mestiere dell'inviato. Il giornalista che, ad esempio, in questo caso, segue il Giro d'Italia e quindi anche in tavola dei rapporti, insomma, con gli attori dell'evento. E quindi in questo caso con i ciclisti. Si divenne amici, insomma, in quella tappa che portava a Genova. Arrapicandosi in mezzo alla polvere, sbattè la sua grossa mano sul cofano della macchina, gridando, forza unità! Noi gli rispondemmo, forza, forza! Ecco, questi inviati spesso erano sulle macchine che accompagnavano i ciclisti. Ora, questo tale Serafino, quando vede la macchina dove ci sono i giornalisti dell'unità, dice, forza unità, come per ringraziarsi, insomma, i giornalisti. Erano anche anni particolari questi. Siamo nel 1947, siamo nell'immediato secondo dopoguerra, quando, diciamo, le appartenenze politiche erano molto forti, sanguigne, nel senso di appassionate da parte della gente. Ora, che cosa vanno i giornalisti? Vanno a vedere, ma chi è questo qua? Perché non lo riconoscono. Devono andare a vedere sull'elenco chi è che porta il numero 20 sulla schiena, perché non è sicuramente uno dei ciclisti più famosi di tutti. Altri video didattici su